Incendio boschivo in Val di Zoldo, il rogo è avvenuto a mezzo canale, un paio di chilometri più a sud della frana che a inizio dicembre ha portato via una corsia della provinciale 251. Siamo arrivati a operazioni in corso, si sta cercando di delimitare l'area interessata dall'incendio, come potete vedere anche dalla direzione che ha preso il fumo, c'è una leggera brezza verso nord. In questi casi il vento può essere un fattore che complica le operazioni di spegnimento, ampio il dispiegamento di forze, dai vigili del fuoco al personale della regione, fino ai volontari antincendio boschivo di Sovergene. Data la collocazione dell'area a fuoco, ovvero in un luogo particolarmente impervio e distante dall'area di pescaggio, sono intervenuti gli elicotteri della regione con una serie di lanci mirati. Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore. Sul posto anche a Veneto Strade il sindaco Camillo De Pellegrin e i carabinieri. In molti in valle hanno notato l'alta colonna di fumo, ben visibile anche da chi transitava lungo la provinciale. Si indaga sulle cause del rogo, localizzato in un'area isolata. Dopo le decine di lanci effettuate in giornata, spiega l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, il sistema rimarrà operativo, così da garantire in caso di necessità l'eventuale ripresa delle operazioni già dalla prima mattinata di domani.